Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati dalla PlayStation Italian League Io sono Ivan Rampage Grieco e quest'oggi sono qui per mostrarvi come si realizza un torneo privato sulla piattaforma playstationitalianleague.com In seguito al nuovo aggiornamento del sito è possibile quindi andare a creare il vostro torneo privato dove potrete scegliere le varie modalità di gioco e impostare voi stessi i metodi del torneo e invitare di conseguenza i partecipanti basterà andare sulla voce giochi dopodiché entrare all'interno della finestra tornei privati cliccare poi su crea un torneo una volta cliccato sulla voce crea un torneo si aprirà questa schermata e dovrete andare a selezionare l'immagine di copertina del vostro torneo in questo caso selezionando appunto un'immagine di queste dimensioni 750x250 potrete chiaramente caricarla direttamente dal vostro pc in questo caso andiamo a scegliere un'immagine di battlefield sia per quanto riguarda le misure poco prima indicate ma anche per 260x165 poi andremo a scegliere il nome del torneo in questo caso imposteremo battlefield 1 e chiaramente andremo ad indicare come gioco in questione proprio battlefield hardline dopodiché ci appariranno in automatico le tipologie di sfida disponibili per questi tornei privati in questo caso il 5 contro 5 una volta effettuato questo passaggio cliccheremo su successivo e imposteremo le date di registrazione e poi le date della competizione stessa in questo caso andremo ad impostare come data di registrazione il 7 dicembre alle ore 13 e la data di chiusura delle registrazioni metteremo il 14 dicembre alle ore 13 e 15 per quanto riguarda invece la competizione andremo ad indicare l'inizio come 13 e 15 uguale dunque al tempo di fine di registrazione e come giorno finale delle competizioni metteremo il 21 alle ore 13 una volta effettuato questo passaggio di quindi creare le date di registrazione e di competizione andremo al passaggio successivo con la scelta della tipologia di eliminazione i criteri di assegnazione dello sfidante e le dimensioni del bracket per quanto riguarda l'eliminazione possiamo scegliere in questo caso soltanto la singola eliminazione quindi a single bracket criteri di assegnazione sfidante metteremo casuale mentre le dimensioni del bracket andremo a decidere in base a quanti team vogliamo che partecipino a questa competizione privata noi metteremo 16 dopodiché andremo al passaggio successivo dove dovremo indicare la data e l'orario preciso di ogni singola fase del torneo in questo caso avendo 16 team iscritti avremo 4 turni e quindi dovremo andare ad indicare le 4 date dei turni il primo turno lo imposteremo sulle 13 e 15 del 21 secondo turno il 22 sempre alle 13 e 15 terzo turno 23 alle 13 e 15 e infine la finale il 24 alle 13 e 15 poi procederemo al passaggio successivo con la scelta dell'età dei partecipanti quindi l'area geografica e il numero di membri totale del team comprese le riserve l'età dei partecipanti possiamo indicare se devono essere maggiori di una certa età in questo caso metteremo maggiori di 13 potremo anche indicare se devono essere minori di una certa età ma in questo caso non lo faremo per quanto riguarda l'area geografica chiaramente andremo a scegliere l'Italia numero di membri totali del team comprese le riserve possiamo andare ad inserire pari a 8 ma comunque è in base a quante persone vogliamo che siano inserite all'interno del team dopodiché procederemo al scegliere se il torneo sarà privato o pubblico in questo caso noi metteremo privato così che potremo soltanto non invitare i team partecipanti arriviamo poi al penultimo passaggio che è quello più importante ovvero indicare tutte le regole e le informazioni utili per partecipare a questo torneo in questo caso indicheremo 5 contro 5 e poi chiaramente dovremo indicare anche tutto il resto dei regolamenti come ultimo passaggio bisognerà indicare qui eventuali premi previsti per il torneo in questo caso metteremo for fun e adesso arriviamo alla verifica e conferma dei dati che sono stati inseriti durante la creazione di questo torneo privato ci sarà la possibilità dunque di rivedere su un'unica schermata tutto quello che abbiamo inserito e poi in caso procedere con la creazione del torneo qui potremo addirittura invitare i nostri amici quindi potremo invitare coloro che sono nostri amici su PSIL e poi condividere il nostro torneo avremo anche il link del torneo e potremo scegliere se impostare una password di accesso per accedere al torneo stesso questo tutorial dunque termina qui noi ci vediamo molto presto con altre novità sempre qui da PlayStation Italian League